Ha riaperto qui a Rivarolo nell'Expertura la scuola Italo-Araba, un progetto che va avanti da anni ma che a causa del Covid era stato sospeso. Sì, grazie per questa domanda. Questo corso è stato riaperto per la faccenda del Covid che ha proprio creato dei danni da tutto il mondo ovviamente e comunque adesso c'è tante famiglie qua extracomunitari per imparare la loro lingua madre araba. Poi il corso era Italo-Arabo, è aperto anche per tutti, anche gli italiani, gratuito. Quindi sì, ci sono extracomunitari che vogliono imparare l'italiano e la loro madre lingua e anche italiani che vogliono avvicinarsi a questa lingua. Giustamente sì, noi siamo volontariati e facciamo il bene per tutti. Io ho detto che sono comunità araba generalmente ma sono italo-marocchini, comunque c'è una doppia cittadinanza e ovviamente anche gli italiani che vogliono imparare l'arabo perché la lingua araba è diventata proprio, posso dire prima ma sarà la seconda mondiale. Sono diversi i bambini a scuola, diverse le aule, tutte piene? Certo perché c'è tanti bambini qua e il problema è che pochi spazi arrivano, c'è tante associazioni. Io ringrazio il signor sindaco Alberto Rostagno per questa possibilità che mi ha dato tutta la sua legislatura. Devo ringraziare anche l'assessore della cultura e ringrazio tutti gli assessori del comune generalmente. Voglio aggiungere questo ringraziamento anche di quanto è stato il convegno della settimana scorsa. Ringrazio tutti gli che hanno partecipato da questo corso lingua italo-arabo. Ringrazio i genitori che ci hanno dato la possibilità, una mano vale per tutti. Ringrazio anche che rappresenta anche il consulato generale dal Marocco, da Torino. C'era presente anche il Caritas e tutta un'autorità italiana che si è intorno del Canavesi. Grazie per questa intervista. Ringrazio i genitori che ci hanno dato un'autorità italiana che si è intorno del Canavesi.